Sta boccando, eccola, speriamo, ecco il pesce. Un bel pesce, la nostra canna Bauer fa il suo lavoro, è sempre in piega, però ci consegna tutta la forza necessaria per combattere i pesci belli anche come questi, perché hanno parecchia forza, e ecco, lo portiamo a Guadino, il nostro pesce. Quello qua, un'altra bella trota, sempre ben pinnata, non sempre troviamo trote così belle nei laghetti, questo è davvero un bel pesce.